Prima della partenza per Bergamo, ultimo allenamento al Brusieschi per l'Udinese che farà rifinitura sabato proprio nella città bergamasca e che oggi si è recata al campo 3 del centro sportivo di No Brusieschi per effettuare l'allenamento consueto del venerdì. Un allenamento molto intenso per quanto riguarda la parte fisica ma anche quella tattica. Andando con ordine la formazione si è riunita sul campo 3 dove al di là dei portieri che si sono allenati sul campo 4 con il preparatore Alex Brunner hanno svolto una lunga fase di riscaldamento con il consueto Torello in cui si sono anche un po' divertiti. I ragazzi hanno spezzato una tensione che ovviamente si palpa. Dopo questa fase è una lunga, come dicevamo, fase atletica in cui si sono svolti vari circuiti con skip, anche proprio gestione, gestione del pallone e ovviamente esercizi prettamente fisici per arrivare tutti al massimo della forma. De Canio vuole sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità del gruppo con i relativi annessi dubbi dei giocatori che non si sono allenati nella giornata di ieri ma che sono rientrati a disposizione completa di Gigi De Canio. Ovviamente citiamo su tutti Vidmer, Ertu e Perizza. Mentre Armero ancora non si è allenato insieme al resto del gruppo, così come di Natale, i due sono da considerarsi difficilmente a disposizione, così come non lo sarà Felipe, squalificato. Dicevamo dei recuperi importantissimi, quello di Silvan Widmer che non è ovviamente al 100% della condizione fisica ma farà di tutto per stringere i denti e dare il meglio di sé nella partita importante contro l'Atalanta. Ertu, anche dopo non essersi allenato per un paio di giorni, è rientrato con il gruppo e infine Perizza che si è riunito. Ai suoi compagni di questi lo svizzero sembra quello più certo di trovare una maglia da titolare contro l'Atalanta, qualora De Canio volesse giocarsi. La carta relativa al numero 27, Ertu che continua a stare in ballottaggio con Mollavaghe per un posto in difesa, il magliano leggermente favorito con la sorpresa, ormai non più tale Domizzi, in difesa a sostituire proprio lo squalificato Felipe. L'altro ballottaggio sta vedendo vincere, per così dire, Emil Alfredson su Bruno Fernandes. Per il resto pochi dubbi per Gigi De Canio che lì davanti schiererà l'artiglieria pesante, Terro e Zapata, appena rientrato dalla squalifica il colombiano, 18 gol in due, vorranno trovare la rete che suggerirà magari il discorso salvezza, anche se ovviamente per festeggiare aritmeticamente la permanenza in Serie A bisogna sì fare risultato, ma anche dare un occhio ai campi di Modena, dove il Carpi sfiderà la Lazio, ai campi di Firenze, dove la Fiorentina sfiderà il Palermo. Qualora una delle due squadre non dovesse vincere, dovesse essere sconfitta dalla Lazio o dalla Fiorentina, l'Udinese anche solo con un punto potrebbe essere salva, ma non è tempo di calcoli matematici, è tempo di mettere la testa sotto, lavorare quello che sta facendo l'Udinese, prepararsi a questa partita molto molto importante dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove si gioca molto del futuro della squadra che vuole ovviamente chiudere bene questa stagione per concedersi una settimana di tranquillità e magari una giornata di festa contro il Carpi, ovvio che sono discorsi che sono forse un po' prematuri la squadra che oggi ha svolto, comunque un'intensissima seduta di allenamento ed è pronta alla trasferta di Bergamo per poi ovviamente vedere quale sarà il risultato del campo.